Buongiorno a tutti, buongiorno all'onorevole Di Maio, vicepresidente della Camera, uno dei personaggi di spicco del Movimento 5 Stelle. Cominciamo oggi un giro di incontri dedicati al referendum, naturalmente ascolteremo tutte le parti politiche, il referendum si avvicina e anche l'Ansa vuole fare un servizio oltre che ai suoi abbonati e quindi alle notizie che riceveranno scritte e anche ai suoi lettori. Il sito dell'Ansa, ansa.it, è diventato uno dei siti più importanti d'Italia negli ultimi anni, siamo arrivati a 16 milioni di utenti unici al mese, siamo il terzo sito tra quelli di informazione, tra i più seguiti in Italia, tra le persone che si mettono in rete per informarsi, questo è stato certificato dalla Reuters Foundation. Diamo il benvenuto all'onorevole Di Maio, con noi ci sono i colleghi della redazione politica che le faranno le domande, il forum sarà visibile naturalmente in streaming online sul nostro sito, ci sarà un live blog e quindi ci saranno anche domande dal pubblico. Comincio in fondo al tavolo, Massimo Sebastiani, il capo redattore centrale, Giuseppe Tito, capo della redazione politica dell'Ansa, Francesco Fabri che lavora ad ansa.it e segue appunto il live blog, Michele Esposito della redazione politica, Ana Laura Bussa anche lei della redazione politica e Francesca Chiri che credo lei conosca perché la incontra spesso, che segue il 5 Stelle, sempre della redazione politica. Ansa è diventata una grande realtà, diciamo che tutta la stampa internazionale, la stampa straniera segue l'Italia anche attraverso l'Ansa, i nostri corrispondenti, Ansa è l'unica agenzia che ha una rete nel mondo che copre più di 80 paesi come lei ha potuto vedere nella recente trasferta in Israele, siamo presenti in tutte le regioni italiane. Anche a Madrid, anche a Berlino, ho incontrato i nostri inviati ovunque. Esattamente, quindi stiamo cercando di fare un servizio equilibrato, Ansa ha per dovere nel suo statuto, nel suo DNA, l'equilibrio, la correttezza, l'imparzialità e la rapidità del servizio. Un tempo quando venivamo assunti a Lanza, io vengo da Lanza, ho fatto tantissimi anni prima di diventarne direttore, l'allora direttore Sergio Lepri ci diceva che mi disse, conto, io non le chiedo per chi vota, non me lo faccia capire da che cosa scrive. Questo per dirle che noi cerchiamo di fare un giornalismo veramente oggettivo di cronaca e credo che questo sia anche uno dei motivi per cui il nostro sito è così successo. La ringrazio, benvenuto. Grazie a voi e grazie all'invito prima di tutto. Allora, io direi che la prima domanda forse la possiamo cominciare a far fare proprio dai colleghi della redazione. Francesca, prego. Sì, io volevo partire proprio dal punto di vista internazionale, il blocco internazionale sull'Italia. Stamattina i siti aprono e dicono che il Bloomberg e il Financial Times... Un attimo solo, abbiamo un problema di microfono. Allora, ripartendo da un'ottica internazionale, uno sguardo internazionale sull'Italia, oggi il Financial Times scrive ed avverte che se vince il no in Italia, l'Italia rischia di uscire dall'euro. Per il Movimento 5 Stelle potrebbe essere una doppia vittoria questa? Io non vedo collegamenti diretti tra il no al referendum e l'uscita dall'euro in questo momento. Noi votiamo per un referendum, quello del 4 dicembre, che decide tra le altre cose se approvare o meno una riforma costituzionale che ci toglie il diritto di votare il Senato della Repubblica come cittadini italiani. Quindi noi siamo chiamati tra le altre cose a rispondere alla domanda. Vuoi tu che ti venga tolto il diritto di votare per il Senato della Repubblica? Sì o no? Sulla questione dell'euro credo che non vadano collegati altri argomenti che non siano in questa riforma e che magari possano far parte di programmi elettorali di altre forze politiche e di forze politiche quando si andrà a votare per le elezioni politiche. È chiaro che se vince il no sicuramente non portiamo l'Italia nel caos delle dieci procedure legislative differenti che continueranno a burocratizzare questo paese. Io poi concludo, sto venendo, stamattina ero a Bologna, ieri sera ho fatto un incontro con la Confartigianato di Cesena che ha 70 anni e riunisce circa la gran parte degli artigiani imprenditori di quella regione e tutti mi parlavano di burocrazia, tutti mi parlavano del rischio legato al fatto che ogni volta che si dice, che la politica dice vogliamo creare uno Stato più semplice si finisce per complicarlo ancora di più. Ecco questa riforma ne è un esempio. Quindi a paesi con economie molto più liberali delle nostre e con strutture di Stato molto più liberali della nostra dico occhio a questa riforma perché produrrà soltanto ancora più caos anche per gli investitori stranieri. Grazie, ci siamo dati come tempo 50 minuti per poter poi avere lo stesso riferimento anche con gli altri ospiti per par condicio anche se non siamo in questo regime noi almeno dell'ANSA. La prossima domanda? Michele Esposito, prego. No, ecco, l'altro ieri il Premier ha parlato di Accozzaia per il no. Voi non avete sempre rifiutato di fare una manifestazione congiunta con le altre forze che sono contro questa riforma. Cosa differenzia il vostro no da quello per esempio della Lega o per esempio della sinistra italiana? Guardi, questo è un referendum in cui c'è il sì e c'è il no. Se ci fosse il forse, forse avremmo delle forze politiche schierate sul forse perché ci sono forze politiche in Parlamento che prima l'hanno votata questa riforma, poi l'hanno rinnegata, adesso sostengono il no. Alcuni non l'hanno mai votata o non gli piaceva, adesso sostengono il sì. Quello che penso è che il fronte del no non sia fatto dalle forze politiche che si schierano per il no. Il fronte del no è un fronte di cittadini, di realtà della cosiddetta società civile, delle associazioni, dei comitati. Non ci sono differenze tra le forze politiche per come sostengono il no. C'è solo la storia delle forze politiche che rappresenta poi la credibilità o meno di quella forza politica. Il Premier ha parlato di Accozzaglia e poi ieri si è scusato. A quanto ho capito ha detto che è stato un errore definirla Accozzaglia. Allo stesso tempo abbiamo visto il Premier prima dire che se vinceva il no se ne sarebbe andato, poi ha rinnegato la personalizzazione, adesso sta ripersonalizzando il referendum dicendo che se vince il no il governo cade, il governo non c'è più. Questo sta continuando a far capire agli italiani che la parola del Premier non ha nessuna validità, non vale nulla in questo referendum. Vede i sondaggi e cambia opinione continuamente, parla di Accozzaglia e poi si scusa, parla di personalizzazione, poi la rinnega, poi la reintroduce. Matteo Renzi non è una campagna referendaria, è semplicemente un inseguimento continuo dei sondaggi, ovvero la campagna di un Premier che non ha nessuna credibilità nel dire se vince il sì l'Italia riparte, perché questa riforma non lo fa e anche se lui lo dice, gli italiani non si fidano più. Anna Laura Bussa. Il microfono per piacere. Non pensa che in questa campagna referendaria così avvelenata, che insomma ha surriscaldato il clima politico in modo considerevole, questa vicenda per esempio anche delle presunte firme false che appunto sta interessando un po' Palermo possa in qualche modo influire o possa continuare ad alimentare questa cosa insomma sui populismi e tutto quello che ne sta derivando adesso nel dibattito politico. Io ho sempre pensato, anche prima di essere eletto in Parlamento, prima anche di far parte del Movimento 5 Stelle, che quando una forza politica commette un errore la si giudica da come reagisce. Noi abbiamo chiesto l'autosospensione di coloro che risulteranno nel registro degli indagati anche se il registro degli indagati ancora non è pubblico e abbiamo solo indiscrezioni. Non ho visto per esempio il Partito Democratico fare alcunché quando una registrazione ha testimoniato che il Presidente della Regione Campania invoglia e incita 300 sindaci a fare voto di scambio. Questa è la differenza oggi tra noi e gli altri partiti e voglio dire non credo che questa vicenda delle firme possa incidere sul referendum costituzionale. chi la strumentalizza, e mi riferisco a chi in questo momento non ha alcuna credibilità per utilizzarla contro di noi, ovvero il Partito Democratico, sbaglia perché si illude che usando questa vicenda contro il Movimento 5 Stelle si possa favorire il sì o danneggiare il no. Detto questo noi siamo in apprensione e chiediamo alla magistratura con i suoi tempi di farci sapere il prima possibile la verità perché per noi è importante saperla. Preciso anche però che questa è una vicenda che riguarda il 2012, firme raccolte per una lista che non ha mai eletto nessuno a Palermo, non ha mai eletto nessun candidato di quella lista e che in questi giorni si sta facendo sembrare siano firme che riguardino l'elezione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, cosa non bella. Posso chiederle quando ha deciso di entrare in politica, di entrare nel 5 Stelle e perché? Allora diciamo in politica nel senso nobile del termine a 15 anni, quando il mio docente di storia e filosofia mi ha spiegato che occuparsi della propria scuola e dei problemi dell'edilizia scolastica significava fare politica. Quando mi ha invogliato a candidarmi a rappresentante degli studenti. Al mondo dei meetup amici di Beppe Grillo, perché nel 2007 non era ancora Movimento 5 Stelle, mi ci sono avvicinato nel 2007 con il primo V-Day e mi aveva molto colpito a Bologna, ma io raccoglievo le firme nella piazza della mia città per la proposta di legge iniziativa popolare che chiedeva che i condannati non fossero più in Parlamento, che si reintroducessero le preferenze nella legge elettorale e che si desse un massimo di due mandati ai politici. Quella proposta di legge iniziativa popolare raccolse 350 mila firme in un solo giorno e lì mi rese conto di quanto potesse essere potente la rete che aveva creato Beppe Grillo e Gianroberto Casareggio avevano creato col loro blog, perché la cosa che mi colpì più di ogni altra era il fatto di aver messo un banchetto in una piazza senza conoscere nessuno e 800 persone nella mia città vennero a firmare solo perché l'avevano letto sul blog. Questo mi fece capire che lì poteva partire un progetto in cui, soprattutto all'inizio, se non volevi partecipare ad una iniziativa, non partecipavi, se ti piaceva, potevi prenderne parte, perché allora venivano lanciate dal blog e ogni italiano aderiva come voleva. E prima che votava ce lo dice? Guardi, nel 2008, io ho fatto 18 anni nel 2004, nel 2006 ho votato per una lista che si presentava alle politiche che era molto sensibile ed era una lista indipendente sensibile al tema dei diversamente abili e poi nel 2008 decidemmo come gruppi amici di Beppe Grillo di cui già cominciamo il percorso per arrivare poi al Movimento. Queste sono state le due uniche occasioni. Nel 2010 ho votato per me perché ero candidato alle comunali del mio comune con il Movimento 5 Stelle. Allora, prossima domanda, Giuseppe Tito, capo della redazione. No, sì. Grazie, buongiorno. Esco un attimo dalla cronaca quotidiana di questo rete. Ecco, ma diciamo lo spartiacco è sicuramente stato il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica con l'arrivo di Berlusconi, comunque ci si è affidati sempre di più ai sondaggi per capire cosa vogliono i cittadini, gli orientamenti ma anche, diciamo, anche su qualsiasi cosa praticamente. Ecco, poi si è passate alle consultazioni online. Ecco, ma io le chiedo una riflessione sulla consultazione online spinta. Ecco, è stata mai fatta dentro il Movimento calcolando che forse questo può far perdere di vista in certi momenti la cosa giusta da fare. Cioè, accettando solo quello che per i cittadini è la cosa giusta da fare, ecco. Per noi quello che pensa la maggioranza dei nostri iscritti è la cosa giusta da fare. Nasciamo da, veniamo da una storia politica, anche abbastanza breve perché abbiamo sette anni, nella quale ognuno di noi, anche io quando facevo l'attivista a Pomigliano d'Arco nella mia città, in provincia di Napoli, chiedevo al sindaco della mia città, al presidente della mia regione di poter partecipare maggiormente alla vita politica della mia città e della mia regione decidendo non solo sulle persone ma anche sui temi. E siamo in un momento storico del Paese in cui i cittadini non chiedono soltanto di decidere su chi debba spendere i soldi delle loro tasse, ma anche su come si debbano spendere i soldi delle loro tasse. E le dico anche un'altra cosa che penso sempre di più. Molto spesso la politica invece si fa influenzare dai sondaggi, da rilevazioni scientifiche che però ultimamente non ci prendono più come una volta. E quindi è, secondo me, molto più sano avere strumenti di consultazione, consultivi, che permettano in tempo reale anche di sapere la base degli iscritti di una forza politica, cosa ne pensi di un determinato argomento. Noi l'abbiamo utilizzato più volte, certo è auspicabile che cresca sempre di più quel numero di iscritti alla nostra piattaforma Russo e quindi al Movimento 5 Stelle, ma devo dire che è stato molto più fedele di tanti orientamenti legati ai sondaggi. Io per esempio sono stato a Parigi mercoledì, ho consultato tanti esperti per farmi spiegare un po' quale fosse la situazione delle primarie del centro-destra. Molti di questi esperti dicevano sicuramente Juppé e Sarkozy andranno al ballottaggio, invece Juppé è stato doppiato e Sarkozy è fuori. Purtroppo è un periodo in cui va male gli analisti, nel senso che è molto difficile riuscire ad intercettare il pensiero delle persone con i sondaggi, quindi meglio utilizzare per esempio strumenti di consultazione online, poi altri partiti magari possono utilizzare quelli dal vivo, non lo so, si fanno le primarie sulle persone, le possono fare anche sui temi, ma avere almeno il sentore di cosa ne pensino i tuoi iscritti continuamente sui temi è molto importante. Chi ci sta seguendo in video, in diretta sul sito, vede ogni tanto alle nostre spalle scorrere delle fotografie dell'On. Di Maio, in genere quando abbiamo ospiti a Lanza andiamo nel nostro archivio digitale che nasce nel 1945 e che ormai ha raggiunto 6 milioni di foto per trovare un po' di curiosità. Con Di Maio naturalmente ci siamo fermati a pochi anni perché da questo punto di vista è stato meno divertente, ma poi gliele consegneremo e poi le metteremo anche sul sito per gli ascoltatori per vederle, è una foto storia di Di Maio. A proposito di navigatori, dal sito di Francesco Fabri, come sta andando il live blog, che domande ci sono? Decine di domande, provo a riassumerne due. Le chiedono, il no in buona sostanza conferma la Costituzione che ha prodotto le caste delle quali discendono tutti i guai di questo Paese. E questa è una prima parte. La seconda è, ma noi condividiamo ciò che state facendo, ma qualora andasse al governo, quale piano economico vorreste attuare? Quello che iniziano, quello fascista, quello liberista, li elencano tutti. Una domandina facile. Sulla prima domanda rispondo con una considerazione che faccio sempre. Io non ho mai pensato che la Costituzione sia immodificabile. La Costituzione si può modificare, soprattutto in quelle parti che hanno contribuito a creare la casta in questi anni. Ad esempio, l'immunità parlamentare per noi va abolita, si lascia solo l'insindacabilità sulle opinioni e i voti espressi e l'assenza di vincolo di mandato ha prodotto negli ultimi tre anni e mezzo la legislatura con il record di cambi di casacca della storia della Repubblica. I tempi di De Mita e Cirino Pomicino erano molto più fedeli al mandato elettorale degli ultimi tre anni e mezzo di legislatura. Questo lo dicono i numeri. Il 37% dei senatori ha cambiato partito almeno una volta in questi tre anni e mezzo. Quindi l'assenza di vincolo di mandato va assolutamente limitata perché sta degenerando. Se non avessimo avuto i cambi di casacca oggi non esisterebbe la Buona Scuola, il Jobs Act, il Salva Banche e la legge Fornero. Questo significa che in questo momento storico modificare la Costituzione può servire a cambiare in meglio. Questa riforma serve a cambiare in peggio, cioè manderà al Senato della Repubblica soggetti come Vincenzo De Luca che oltre all'immunità parlamentare potrebbe essere anche il futuro Presidente del Senato della Repubblica, senza che nessuno lo abbia eletto lì dentro, senza che noi cittadini avessimo diritto di parola su quel tema, su quella Camera. Creiamo un'altra casta, una casta che terrà al proprio interno la classe politica più coinvolta da indagini in questo Paese, regionali e sindaci. Per quanto riguarda il programma economico, voglio rincuorrare chi pensa che stia per arrivare una forza politica comunista che vuole eliminare la proprietà privata e vuole attentare all'iniziativa libera in questo Paese. Quella la sancisce la nostra Costituzione della Repubblica. Noi pensiamo soltanto che questo sia un Paese che ha il 95% di tessuto produttivo di piccole e medie imprese e si continuano a fare leggi, sia normative europee che normative italiane, sul modello delle grandi industrie. E per questo non riusciamo ad intercettare una svolta economica, perché non stiamo parlando come Stato a quella parte di tessuto produttivo che oggi è quello più arrabbiato di tutti nel Paese, perché ha una tassazione effettiva oltre il 50% ed è vessata da una burocrazia che praticamente blocca l'imprenditore a fare scartoffie per tre anni e mezzo. Quindi il programma economico parte da qui, dalla piccola e media impresa, attraverso un abbassamento della pressione fiscale su questo settore produttivo, con la lotta alla corruzione. Noi abbiamo in questo Paese 15 miliardi di Euro da recuperare ogni anno almeno, 15 mi sono tenuto basso dalla lotta alla corruzione che possiamo investire in abbassamento della tassazione alle piccole e medie imprese e allo stesso tempo, se vogliamo combattere la burocrazia dobbiamo dire ai politici di fare meno leggi. Questo è un Parlamento che ha fatto una legge ogni 5 giorni negli ultimi tre anni e mezzo, quindi è una balla quella che dice Renzi che dobbiamo fare le riforme per far aumentare il numero di leggi, ne facciamo già abbastanza, una ogni 5 giorni. Per limitare la burocrazia dobbiamo diminuire il numero di leggi e per questo controllare anche le performance delle leggi. Se si fa una legge dopo due anni come in Inghilterra voglio sapere se quella legge stia funzionando, se non sta funzionando la aboliamo. Lei ha accennato al tessuto produttivo, alla piccola e media imprese, come si spiega che Confindustria e il Presidente Confindustria si sia schierato così a favore del sì, avendo Confindustria comunque una buona parte degli associati anche che sono in quel territorio di piccola media imprese. Il Presidente Confindustria ha tutto il diritto di schierarsi per il sì, io le dico una cosa, in questo momento sto osservando con molta molta attenzione i vertici di molte associazioni di rappresentanza di determinate categorie che si schierano a favore del referendum, quindi per il sì o per il no. Ma non credo che quando il vertice di Confindustria si schiera per il sì sta parlando a nome di tutti gli industriali, come non credo che quando Coldiretti si schiera per il sì stia parlando a nome di gli agricoltori iscritti, ho visto il Presidente di Coldiretti non vuole essere un attacco che parla del sì dal palco davanti ai suoi iscritti e i suoi iscritti lo fischiano. Siamo in un momento in cui Matteo Renzi secondo me sta sbagliando strategia, non deve parlare ai vertici, deve parlare alle basi delle organizzazioni, deve parlare agli agricoltori, non ai vertici dell'associazione di categoria, deve parlare agli industriali medi, anche ai grandi, ma non al Presidente dell'organizzazione degli industriali, perché se pensa di avere tutti gli industriali dalla sua parte, perché Confindustria si è schierata per il sì, credo che stia facendo un enorme errore di valutazione, che è anche quell'errore che vediamo sempre di più quando si pensa la Clinton vincerà sicuramente negli Stati Uniti perché ha dalla sua parte la maggioranza dei rappresentanti delle varie parti del Paese, in realtà poi le basi hanno votato tutt'altro. Grazie, riprendiamo il giro, Francesca, vai te con la prossima, prego. Stiamo andando molto bene con i tempi e anche con il ritmo mi pare, quindi vi invito a proseguire così. Io le volevo chiedere, è uscito un nuovo capitolo di un libro che fa, come si dice, le pulci al Movimento, scritto da due ex collaboratori, diciamo, del Movimento, e in questo caso parla dei vostri rapporti con la Russia di Putin. Io quello che le chiedo, abbiamo visto che lei ha fatto il giro delle diplomazie europee, è andato a far conoscere il Movimento in giro per l'Europa e per il mondo. È andato o andrà anche in Russia? Attualmente non c'è nulla in programma e rispondo ad una domanda di politica estera perché non voglio che si usi il Movimento per vendere libri. Le rispondo su una domanda di politica estera che è quella dei rapporti Movimento 5 Stelle-altri paesi, sia dell'Occidente sia dell'Est. Oggi non abbiamo in programma visite in Russia, ma dobbiamo anche dirci una cosa. Ogni volta che visito ultimamente un'impresa agricola di questo paese, che sia media, grande o piccola, l'agricoltore o l'imprenditore mi parlano di politica estera. Nelle imprese agricole di questo paese si parla di politica estera ogni giorno. Si parla di sanzioni alla Russia, del trattato UE-Marocco, del trattato UE-Tunisia, delle paure del TTIP e delle paure per il MES-Cina. Siamo in un momento del nostro paese in cui eliminare le sanzioni alla Russia può essere un'occasione per la nostra agricoltura, le nostre imprese, per l'export e anche per la produzione qui in Italia. Ma siamo anche in un momento del mondo in cui non c'è bisogno di schierarsi con la Russia o con gli Stati Uniti, non bisogna essere filo-russi o filo-statunitensi, basta essere filo-italiani e avere rapporti con la maggioranza dei paesi all'estero per cercare di coltivare buone relazioni economiche e buone relazioni politiche e diplomatiche. Siamo anche in un momento della politica estera in cui dopo le elezioni americane, almeno dagli annunci, sembra che stia cambiando il rapporto tra Stati Uniti e Russia. In ogni caso noi non tifiamo né per l'uno né per l'altro, tifiamo per l'Italia, per le nostre imprese che sono state danneggiate da una serie di scelte che in questi anni hanno coinvolto sia la Russia sia gli Stati Uniti. Il più grande fallimento dell'Unione Europea in questo momento è quello di aver creato un mercato unico per proteggerlo e invece di proteggerlo lo ha aperto a mercati che non erano assolutamente in competizione con noi, non potevano esserlo. Se tu apri al mercato cinese stai dicendo che l'imprenditore italiano che deve rispettare 10.000 normative per produrre si deve andare a scontrare con i cinesi che non hanno le stesse normative e gli stessi standard di produzione. Quando si è aperto ai prodotti dell'agricoltura marocchini e tunisini, si è consentito a marocchini e tunisini di produrre lo stesso prodotto, perché la provincia di Ragusa è sotto Tunisi, alcune parti della provincia di Ragusa sono sotto Tunisi, siamo nello stesso momento, nello stesso, nella stessa parte del globo dove a febbraio e a marzo maturano dei prodotti e per questo erano competitive quelle zone per l'agricoltura, beh si sta dicendo potete produrre lo stesso prodotto, entrate nel nostro mercato senza dazi ma non dovete rispettare lo stesso costo del lavoro e le stesse qualità standard di produzione. Quindi oggi vediamo che cosa succederà nella politica estera, devo dire che anche gli Stati Uniti si stanno orientando a quanto leggo, poi vedremo alla prova dei fatti, verso uno scongelamento dei rapporti con la Russia. Posso prendere spunto da questa sua risposta? Proprio vedendo uno dei motivi principali per cui Trump probabilmente è stato eletto è questo suo messaggio nei confronti degli accordi commerciali internazionali che hanno messo in crisi i settori produttivi dell'America, un messaggio molto simile a quello che abbiamo sentito in Europa, a volte molto simile anche a quello che date voi di messaggio, l'ultimo numero dell'Economist ha una copertina con Trump, Putin, la Le Pen titolata i nuovi nazionalismi, il fronte del nazionalismo, queste posizioni che chiaramente voi non siete assimilabili, siete diversi da queste realtà, ma questo motivo mi sembra che sia un comune denominatore, non rischiate di trovarvi in una sorta di internazionale dei nazionalismi nella quale magari non vi troviate? Sicuramente noi non ci siamo mai riconosciuti in questa presunta famiglia delle nuove forze politiche emergenti europee, ma stiamo parlando da Podemos, ad Alba Dorata, alle Pen, alternative for Deutschland, non ci siamo mai riconosciuti perché pensiamo che in Italia ci sia la fortuna di avere il Movimento 5 Stelle, non Alba Dorata o altri soggetti come quelli che stanno emergendo in Europa, questo ci consente anche di poter guardare agli altri paesi in un'ottica di interessi italiani, lo dico con molta franchezza, io sono un tifoso del modello di banca pubblica che è stato creato in Francia dalla BP France o la ICO spagnola o la KFW tedesca e questi modelli sono stati creati da partiti tradizionali, quindi si possono importare buone pratiche dagli altri paesi qui in Italia non per forza avendo un pregiudizio verso i partiti tradizionali. Detto questo è chiaro che i partiti tradizionali siano in difficoltà in tutta Europa, dove non sono in difficoltà per consultazioni politiche dirette, sono in difficoltà perché magari abbiamo visto in Inghilterra che tutto il partito laborista e gran parte di quello conservatore era schierato per il Remain, ha vinto il Brexit, vediamo oggi in Francia che cosa accade, vedremo che cosa accadrà nel 2017, la Merkel annuncia la sua ricandidatura ma ha già parlato di Alternativa for Deutschland come una minaccia, i partiti tradizionali stanno morendo perché in Europa ci hanno portato in questa Europa e i cittadini europei sono arrabbiati perché avevano, qui in Italia ci avevano detto, lavorerete la metà e guadagnerete il doppio, abbiamo perso il 25% di ricchezza nazionale da quando è iniziato il processo della moneta unica, quello che noi dobbiamo capire in questo momento storico è che i cittadini decideranno al di là degli endorsement, al di là dei personaggi e delle forze politiche che si schiereranno, noi come Movimento 5 Stelle siamo impegnati a difendere sia sul piano della politica interna che sulla politica estera, i nostri interessi economici, sociali e di Stato sovrano e quelli che saranno i capi di Stato, le forze politiche di maggioranza che eleggeranno i cittadini negli altri paesi, con quelle dialogheremo per ottenere questi risultati. Grazie. Vogliamo Michele, in caso di vittoria del no, quale sarà il primo passo del Movimento 5 Stelle nel breve periodo e se nel medio periodo comincerete ad accelerare su quella selezione del team che voi vorreste mettere dal governo? Il tema della squadra di governo si porrà nel momento in cui verranno indette nuove elezioni politiche, in questo momento noi siamo impegnati su questo referendum e impegnati per la vittoria del no, anche perché, apro solo questa parentesi, noi abbiamo una grande storia di democrazia diretta e partecipata e questa riforma produrrà come effetto sulle leggi di iniziativa popolare, l'unico effetto sarà triplicare il numero di firme da raccogliere per le leggi di iniziativa popolare. La storia dell'obbligatorietà della discussione in Parlamento non me la bevo anche perché si rimanda ai regolamenti della Camera per introdurre l'obbligatorietà della discussione della legge di iniziativa popolare, una cosa che conoscendo i regolamenti della Camera non potrà mai imporre alla conferenza di capigruppo la discussione di una legge di iniziativa popolare, a meno che non si introduca una sanzione pecuniaria per 630 deputati, qui è cosa che non mi pare sia prevista. L'unica cosa che produrrà questa riforma è aumentare le difficoltà dell'accesso agli strumenti di democrazia diretta e questa è una preoccupazione. Detto questo, se dovesse vincere il no immagino che, come sta dicendo anche il Presidente del Consiglio, non ci sarà più questo governo, il governo Renzi, il Presidente della Repubblica sarà chiamato al suo ruolo e quindi a seguire l'evolversi delle vicende e immagino chiederà alle forze politiche cosa vogliano fare, questo lo dice la Costituzione. Il Movimento 5 Stelle chiaramente dirà che vuole andare alle elezioni il prima possibile e ridare la parola al popolo italiano, anche perché questo no, se dovesse vincere, boccerà anche la stagione dei governi di scopo. I governi che abbiamo visto in questi anni, Monti, Letta e Renzi, avevano lo scopo di fare le riforme. Abbiamo letto le riforme e abbiamo capito quale fosse lo scopo. Salvare la classe politica in declino dei partiti tradizionali italiani, questo è lo scopo di questa riforma. Come si è tolto il diritto agli italiani di votare per le province, si sono create le città metropolitane e non ci viene dato il diritto di votarle, come si è fatto l'Italicum che reggerà oltre il 60% di deputati con i capilista bloccati, con la riforma costituzionale si toglie il diritto di votare direttamente il Senato. È un piano per provare senza complottismi, è l'istinto di sopravvivenza di una classe politica che non avendo più il consenso prova a sganciare il consenso dalla permanenza al potere. Quindi bocciamo la stagione di governo di scopo e l'unico modo per far ripartire questo paese è ridare la parola agli italiani. Voi vi starete chiedendo con quale legge elettorale, quindi vi anticipo la domanda, che questa prima di tutto deve essere una sensibilità al Presidente della Repubblica, cioè se il Presidente della Repubblica dovesse dire io non sciolgo le camere, se non si fa una legge elettorale che riorganizza il caos creato dal PD con l'Italicum alla Camera sotto giudizio della Corte Costituzionale e il consultellum al Senato, allora noi come abbiamo sempre detto siamo disponibili a fare una legge elettorale senza governi di scopo, cioè il Parlamento è attrezzato per fare una legge elettorale e poi andare a votare, non c'è bisogno di fare un nuovo governo, ci sarà il governo Renzi per gli affari correnti, visto che si sarà dimesso come ha già detto. Quale sarà la legge elettorale? Noi ne abbiamo una che si chiama Democratellum sulla scia di questi nomignoli che si danno alle leggi elettorali e voglio dire una cosa, il dibattito, ma il Movimento 5 Stelle è disponibile a partecipare alla legge elettorale che sarà presentata dalla maggioranza? È un dibattito sbagliato perché il centrodestra ha fatto una legge che si chiamava Porcellum ed è stata dichiarata incostituzionale, il centrosinistra ha fatto una legge che si chiama Italicum, la vogliono cambiare ed è sotto giudizio della Corte, adesso tocca a noi, quindi la domanda è gli altri sono disponibili a votare una legge elettorale costituzionale come il Democratellum che è presentata dal Movimento 5 Stelle, la votiamo in due settimane e poi si va a votare. Quindi o è la vostra o non si vota, voi non la votate? Questo è chiaro perché l'abbiamo visti all'opera quando fanno le leggi elettorali, tant'è vero che io il PD l'ho visto discutere, litigare e spaccarsi solo sempre sulle leggi che riguardano le poltrone in Parlamento. Quando fanno la legge elettorale viene fuori il peggio di sé e cercano sempre di fare una legge che provi ad imbrogliare cambiando le regole del gioco. Lo abbiamo visto troppe volte per pensare che la legge che decideranno di proporre possa essere una legge costituzionale o che abbia sensibilità per la rappresentatività. Io non lo so, sicuramente voi ne avete parlato, ma ad agosto in Sicilia, all'Assemblea regionale siciliana, è stata votata una legge per i comuni che ha dell'incredibile. Dopo che li abbiamo battuti a tutte le elezioni comunali dove ci siamo presentati a maggio, ad agosto, lontano dai riflettori, l'Assemblea regionale siciliana ha sancito che un sindaco può essere eletto al primo turno se ha la minoranza dei voti. In tutta Italia un sindaco viene eletto al primo turno col 50% più uno dei votanti, in Sicilia può essere eletto col 40%, cioè col 60% dei cittadini contro e con questa legge si voterà nelle grandi città a maggio in Sicilia. Questa è un'altra legge elettorale che si fa per cercare di sopravvivere al declino di un modo di fare politica che di certo non riguarda le leggi elettorali, ma riguarda quello che hanno fatto e non hanno fatto questi partiti negli ultimi vent'anni. Quindi nessuna disponibilità a un altro governo sostanzialmente? Assolutamente no. Anche neanche per approvare la legge di stabilità e la legge elettorale? Guardi, quello si può fare benissimo in Parlamento, non è il governo che approva la legge di stabilità. Ok. E vogliamo sentire come sta andando sul web, dai social, che messaggi arrivano? Una domanda secca. Perché siete favorevoli al no quando con la riforma costituzionale con l'Icat Alicum potreste andare al governo e attuare così il vostro programma elettorale senza scomode alleanze con altri partiti? Tutto sommato serve tutto più semplice. Ovviamente questo è uno dei tanti scenari fatti da persone che fanno scenari e da un po' di tempo non ci azzeccano. Quindi io non mi fido degli scenari, io mi fido solo del fatto che è giusto fare cose giuste. Questa legge elettorale, ormai lo dicono in tanti, lo dice anche il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è una legge che può dare il 55% dei seggi ad una forza politica che prende il 20% dei voti. E questo ovviamente è una cosa che non solo è incostituzionale ma è immorale. Questa riforma costituzionale è una riforma che toglie dei diritti ai cittadini e dà nuovi privilegi alla politica per creare un'altra casta, quella dei nuovi senatori della Repubblica. È giusto che la si combatta e ci vuole anche la credibilità per dire no a questi provvedimenti e noi lo facciamo da quando siamo entrati in Parlamento. Che ci favorisca o no, questo è rilevante. Se è vero che ci favorisce dovremmo essere apprezzati ancora di più per il nostro no. Questi calcoli ci portano un po' a fare dei pulci anche alla democrazia americana perché poi alla fine Trump con il 60% degli elettori ha preso la metà, sostanzialmente governerà gli Stati Uniti e gran parte del mondo con un 35% dei voti. Però avrà le elezioni di medio termine perché sono una Repubblica presidenziale e quindi hanno i loro check and balances. Se io avessi avuto di fronte un partito, il Partito Democratico, e avesse detto noi siamo per il semipresidenzialismo o per il presidenzialismo, sarebbe stato più onesto, noi siamo per il parlamentarismo, discutiamo su modelli di Stato differenti. Se invece si vuole fare sempre il solito giochetto, cambiamo la legge elettorale per fare, ora lo chiamano il premierato, ma sostanzialmente si cerca di fare un presidenzialismo senza neanche i giusti check and balances. E questo poi che cosa crea? Crea degli squilibri, crea anche delle paure nei cittadini fondate, non per quello che c'è scritto nella riforma, ma quello che potrà produrre in futuro. Perché i veri effetti devastanti sull'Italia di questa riforma non li conosciamo tutti oggi leggendo la riforma, io credo che siano anche peggiori, perché il giorno in cui dovessimo vincere noi alla Camera dei Deputati con questa riforma, e speriamo che non passi, al Senato della Repubblica i senatori e il Presidente del Senato avranno quell'articolo 70 scritto in burocratese per provare a fermare qualunque legge nostra anticorruzione sul taglio degli stipendi, sul taglio dei vitalizi che faremo alla Camera. La cosa inquietante è che noi siamo il paese della burocrazia che aveva esonerato almeno la Costituzione dal linguaggio burocratese. Con questa riforma nell'articolo 70 si porta il peggior burocratese italiano. È un articolo che ha il coraggio di dire, si richiama il comma 3 della legge 72, della legge 44, del comma 5 dell'articolo 2. Questo modo di scrivere è il miglior modo per portare poi il paese al caos, soprattutto se non dovesse esserci un allineamento della stessa forza politica tra Camera e Senato. E poi voglio dire un'ultima cosa, per me non è giusto che una forza politica che ha oggi neanche il 30% dei consensi in Italia come il PD prenda il 67% dei seggi al Senato della Repubblica e i cittadini quando hanno eletto i consiglieri regionali non gli hanno mai dato un mandato di andare a fare i senatori. Giuseppe, perdete il microfono se no non ci ascoltano. Grazie. Ritorno sull'Europa, l'Europa nel mirino ma anche alla fine di molti partiti nazionalisti ma anche di governi progressisti. Renzi, il Presidente del Consiglio italiano, ha avuto in certi momenti rapporti decisamente conflittuali con Bruxelles per motivi sempre economici e di bilancio. Le dico, ma proprio nell'ottica dell'interesse nazionale, un eventuale governo futuro, diciamo, dei Cinque Stelle, come potrebbe relazionarsi con Bruxelles? Tenendo presente, io faccio l'esempio dei paesi dell'Est, gli ultimi arrivati che hanno sicuramente creato dei rapporti molto stretti tra i governi centrali e Bruxelles, mandando anche tecnici di alto livello direttamente a Bruxelles per seguire, diciamo, quelli che sono definiti interessi nazionali. Ho incontrato in questi giorni, martedì sono stato a Bruxelles, ho incontrato rappresentanti di categorie delle nostre imprese lì a Bruxelles, che subiscono più di tutte le nostre imprese direttive e regolamenti che molto spesso vengono scritti su modelli tedeschi o francesi. Per intenderci la piccola impresa francese o tedesca può arrivare anche a 200 dipendenti, la nostra piccola è 10 dipendenti. Molto spesso gran parte delle normative vengono scritte su quel modello lì. Noi non siamo furbi come Italia, non abbiamo, e furbi in senso positivo, nel senso che dovremmo portare lì la migliore parte dei nostri funzionari, la miglior parte, il meglio della nostra classe diplomatica, il meglio dei nostri esperti universitari per fare in maniera sana l'obby italiana, portare lì gli interessi dell'Italia. Questo non lo facciamo, abdichiamo molto spesso a questo ruolo, lasciandolo a volte ai rappresentanti di categoria che però si devono battere con stati che hanno rappresentanti di categoria e il meglio della pubblica amministrazione lì a contrattare i nostri interessi. Quindi il nostro obiettivo non è quello di uscire dall'Unione Europea, il nostro obiettivo è restarci per cambiarla. Devo dire anche una cosa, il 2017 è un anno di svolta in generale per l'Unione Europea, io spero che si voti nel 2017 anche in Italia, non so quale Europa troveremo, perché le elezioni francesi vedremo che esito avranno, le elezioni spagnole ci saranno di nuovo a breve, c'è un governo di minoranza, ci saranno elezioni in Italia e ci saranno elezioni in Germania, forse la Merkel ce la farà di nuovo, non lo so, in ogni caso se ce la dovesse fare troverà un'Europa differente, potrebbe anche essere in minoranza la linea tedesca nell'Unione Europea nel prossimo anno e mezzo. Ma a livello europeo, lei mi diceva prima che non vi riconoscete appunto in una serie di movimenti eccetera, ma pensate al di là di come andranno le elezioni, se veramente poi a un certo punto le vincerete vi toccherà governare, ma in vista delle prossime elezioni che ci saranno nei paesi europei, voi pensate comunque di appoggiare, di far sentire la vostra voce nei confronti di alcuni dei partiti, non so in Germania, in Olanda, in Francia o rimarrete alla finestra? Saremo degli ipocriti, perché abbiamo chiesto all'ambasciatore americano di non fare endorsement sul sì e sul no, abbiamo chiesto a Renzi di non schierarsi con la Clinton e non credo che faccia piacere a Trump il fatto che il Presidente del Consiglio degli Stati Uniti sostenesse la sua rivale che ha perso e non vogliamo creare delle ingerenze in altri paesi, perché ingerire nelle elezioni politiche di altri paesi quando il nostro obiettivo è comunque avere buone relazioni con gli altri paesi in base alla decisione del popolo che sceglierà il proprio Presidente della Repubblica, la propria maggioranza, il proprio Premier, non lo so, questo è l'obiettivo nostro, quindi meglio evitare endorsement. Quindi senza endorsement non ci dice neanche se avrebbe votato per Trump o Clinton? Non l'ho detto prima e non lo dico adesso. Vabbè, adesso sarebbe più facile. Prossima domanda chi la fa? Massimo? Francesca Chiri, sempre della redazione politica, prego. Io le volevo invece chiedere un bilancio, perché adesso sono un po' di settimane che non sentiamo più parlare del dibattito all'interno del Movimento sulla Giunta romana. Il Sindaco Raggi sta andando avanti, qual è il bilancio che lei invece sente di fare qualche mese ormai dall'avvio della... Io parlo per risultati. Il fatto che la Giunta Raggi abbia deciso di sostenere una delibera in Consiglio Comunale che vuole liberare il centro storico dalle slot machine e ridurre gli orari di apertura dei centri slot a Roma, per me è una grande battaglia e la sostengo. Nei primi tre mesi sono stati trovati 11 milioni di euro dalla spending in review e nove sono stati destinati ai servizi agli studenti disabili delle scuole, che per inciso grazie anche alla buona scuola hanno serie difficoltà ad avere gli insegnanti di sostegno, nonostante la scuola sia iniziata da un po'. E l'obiettivo è sempre lo stesso, evitare di illudere i romani con operazioni spot e cercare con assiduità e programmazione di risanare un comune in seria difficoltà. Il fatto che il nuovo bilancio della Capitale per la prima volta sia un bilancio programmatico che ci consenta di non dover accedere necessariamente agli appalti in somma urgenze e affidamento diretto che sono stati e sono nell'ordinamento statale un modo elegante per trasferire molto spesso risorse ad imprese che non hanno i requisiti per vincere le gare d'appalto, è una cosa che mi rincuora perché si sta lavorando in un'ottica di programmazione. Ai romani bisogna parlare col medio termine perché questa è una città da far risorgere dalle ceneri. Abbiamo ereditato una macchina fuori carreggiata senza chiavi, senza guidatore contro un muro. La stiamo rimettendo in carreggiata per farla ripartire. Allora, siamo direi verso la fine. Se ci vogliamo sentire ancora qualche suggerimento dal web, Francesco, se ci dici come sta andando. Continuo a scrivere e rimanendo sempre sulla riforma. Ci si chiede per quale motivo i nostri parlamentari vengono pagati molto più di quelli di altri paesi e perché, se secondo voi anche negli altri paesi esistono caste così come da noi? Io non sono uno di quelli che dice all'estero è tutto perfetto, in Italia siamo gli unici che fanno cose sbagliate. Di certo la classe politica italiana ha bisogno di uno scossone, soprattutto dal punto di vista dei privilegi che ha, perché sono un problema culturale prima che economico. Se noi non riusciamo a far sì che le istituzioni diano l'esempio, soprattutto in un momento in cui chiedono sacrificio ai cittadini, culturalmente creiamo un effetto devastante nella cittadinanza. I cittadini non credono alle leggi che fanno le istituzioni. Quindi, in Italia si può ridurre lo stipendio dei parlamentari? Sì, l'abbiamo proposto con una legge, saranno ormai tre settimane, alla Camera dei Deputati, la legge Lombardi che abbiamo presentato e portava da 10 mila euro lordi a 3 mila euro nette gli stipendi dei parlamentari, facendo risparmiare 90 milioni di euro. Il doppio di quello che fa risparmiare questa riforma. Che voglio dire, questi temi vengono utilizzati anche da quelli del sì. Ridurre i costi della politica, ridurre le poltrone. Mettiamo in evidenza la fregatura. Ridurre le poltrone. Si dice che scompariranno 200 senatori, ma nessuno dice che la legge del Rio ha creato 25 mila nuovi posti da consigliere comunale nei comuni e 6 mila nuovi posti da assessore. Ora direte, un consigliere, un assessore non costa quanto un senatore? È vero, ma 200 senatori in meno, 30 mila poltrone in più nei comuni, sono un rapporto comunque con un saldo negativo. Per quanto riguarda i costi, la ragioneria generale dello Stato su nostra richiesta ci certifica 50 milioni di risparmi, ma quanto costa il referendum del 4 dicembre? 300 milioni di euro. Quanto è costato il lavoro in Parlamento di due anni di questa riforma a 100 mila euro all'ora che costa la Camera dei Deputati? Quindi il saldo è sempre negativo anche sui risparmi. Credo che in Italia ci sia molto da fare dal punto di vista dei privilegi, ma posso dire anche con contezza, cognizione di causa, che la politica per ridurre i privilegi non deve aspettare una legge, può cominciare a farlo da sé. È quello che pensavo io quando sono entrato, non ho mai utilizzato la mia auto blu o il volo di Stato per i voli istituzionali e non ho mai preso il mio stipendio pieno. Rinuncio a tutti gli stipendi accessori, metà della mia indennità, rendi conto tutti i rimborsi e proprio perché li rendi conto, chi non restituisce niente mi accusa di restituire troppo poco. Mi pare che c'era un'ultima domanda dalla redazione, dobbiamo essere velocissimi. Qualche giorno fa Grillo ha detto che il direttorio non c'è più. Secondo te cosa cambia a livello di equilibri interni, se cambia qualcosa e se secondo te in futuro ci potrà essere un nuovo organo simile. Il direttorio se ricordate è nato quando nel novembre 2014 il Movimento 5 Stelle stava vivendo una serie di difficoltà organizzative interne, cioè noi in quel momento storico avevamo bisogno di persone che si occupassero dell'organizzazione interna del Movimento, non che prendessero decisioni politiche esterne, ma seguissero un po' i sindaci che aumentavano, i consiglieri regionali che aumentavano, i gruppi locali che avevano bisogno di riferimenti, avevamo i centri anti-equitalia in tutto il paese che sostenevano i cittadini e un serio rapporto con le imprese molto forte che adesso cura Carla Rocco. Qual è il punto? È che il direttorio si è voluto perché non esistono più 5 persone che si occupano di questioni organizzative interne, solo io sui comuni lavoro con altre 4 persone che si occupano dei comuni del Movimento 5 Stelle, quindi il direttorio è superato perché siamo molti di più quelli che si occupano di organizzazione interna. Devo dire anche che è nato in un periodo in cui eravamo al 15-16%, nel novembre 2014 ci davano un po' tutti per spacciati in questo paese, oggi siamo di nuovo secondo molti analisti, la prima forza politica del paese, di certo siamo stati i primi a Roma e Torino alle ultime elezioni amministrative, quindi la forza politica cresce sempre di più e ha bisogno di più persone che se ne occupano nell'organizzazione interna e per questo non siamo più in 5 ma siamo molti di più, solo elencarli richiederebbe almeno 5 minuti. Allora grazie all'onore di Maio, grazie ai colleghi della redazione, grazie a Riccardo Domenichelli in regia, Alessandro Di Meo che è l'uomo che ci immortala, che fa le foto, che poi riceverà, è quello che ha fatto la foto al fulmine di San Pietro il giorno delle elezioni di Benedetto XVI. Grazie soprattutto agli ascoltatori, Lanza non fa il tifo per nessuno ma le fa in bocca al lupo per le sue battaglie e le regaliamo le fotografie di cui parlavo e questo libro dedicato a Falcone e Bersellino che è diventato una mostra che stiamo portando in tutte le scuole d'Italia e che sarà il centro di un nuovo portale dedicato alla legalità che Lanza sta per lanciare. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a voi tutti. Grazie. Grazie.